Fanno credere ad una pensionata di essere posseduta dal diavolo e la convincono che è l'unico modo per liberarsene e bruciare del denaro, ovviamente per prenderselo loro. La vittima è una pensionata di 62 anni di Carini, nubile e senza figli. Gli autori della truffa diabolica scoperta dai carabinieri di Carini sono una 34enne serba e il suo convivente carinese di cui non sono state rese note le generalità. Una mattina la pensionata nota una croce rossa disegnata sul muro davanti alla propria abitazione. Spaventata incontra un vicino che approfittando della situazione la convince che sia un segnale del diavolo e le dice di conoscere una donna in grado di aiutarla. Questa donna, la 34enne serba, le conferma che si tratta di un chiaro avvertimento della presenza del demonio e che può essere liberata solo attraverso un rito, bruciare 15.000 euro in contanti. Terrorizzata la signora va in banca per ritirare il denaro e lo consegna alla serba che porta la vittima in una stanza scura e piena di candele. Al momento del rito sostituisce le banconote con pezzi di carta bruciati. Sembra tutto finito ma dopo qualche giorno la signora si accorge di altri simboli nella propria abitazione. Si reca nuovamente dai due che le indicano la necessità di un ulteriore rito dove bisognerà uccidere e seppellire un agnello come simbolo del sacrificio, bruciando questa volta 30.000 euro. Soldi che però la pensionata non possiede e che la serba si propone di prestarle, ovviamente con debito di restituzione. Disperata la pensionata parla dell'accaduto con un prete che intuendo immediatamente la truffa l'accompagna dei carabinieri. Ormai plagiata mentalmente dai due per i militari non è stato semplice convincere la donna che fosse vittima di un raggiro. Risaliti gli autori della truffa sono scattate le manette con l'accusa di truffa aggravata. Per il complice è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.